Alla fine parto prima con i ringraziamenti, innanzitutto Ottavia e Massimiliano Marotte e tutti i membri dell'associazione per l'invito oggi ringrazio e rinnovi i miei complimenti e l'augurio per la pubblicazione del libro. Io mi sono diplomato l'anno scorso dopo 5 anni di liceo scientifico a Caserta, al liceo Armando Diaz e ad oggi frequento l'università Federico II Ingegneria Elettronica, dunque diciamo io sono sempre stato un amante delle medie scientifiche e sto continuando con questo ramo. Io voglio dire soltanto una cosa e mi aggancio anche alla cosa che aveva detto prima la dirigente di Lorenzo, lei ha già dichiarato pubblicamente che l'anno prossimo ci sarà un nuovo libro e già faccio gli auguri per il prossimo e voglio soltanto dire all'idiatore del premio The Best, il professor Carrese, di continuare con questa associazione, con questo premio ogni anno perché in qualità di giovane posso dire che i giovani devono essere spronati perché senza qualcuno che dice di fare qualcosa, magari anche un premio come ricompensa, i giovani daranno molta soddisfazione e noi siamo inseriti. Grazie mille. Applausi. Ha dato un senso al nostro premio chiaramente. Allora Dennis è premiata, perfetto, premiato dal professore, la unicorn ma se riesce a collegarsi Questo nome è premiato da Ottavia. Nica, è arrivata? Sì, è arrivata. Saluta. Nica, saluta, saluta. Buonasera a tutti. Innanzitutto volevo ringraziarvi, mi dispiace tantissimo di non essere lì. Volevo dire semplicemente che ho frequentato per 5 anni liceo linguistico a Santana, la Santa Gallata dei Goti, e lo studio, come ben sappiamo, è un'arma a doppio taglio. Da un lato c'è un grande sacrificio, io mi ricordo dei giorni in cui ho pianto, dei giorni in cui mi disperavo, perché ci tenivo tanto, ma è un motivo di grande orgoglio, è un motivo di essere un motivo di grande orgoglio per me, per i miei genitori, per la mia famiglia, e essere riconosciuti così è quello che mi spinge a vivere e a fare quello che faccio tutti i giorni. Quindi grazie mille.